Allora, parto subito col dire la bella notizia, cioè che tra qualche giorno, una settimana, massimo due settimane, vedrete su questo canale la recensione di una RTX 3080 Ti Supreme X di MSI. È una cosa che io non avrei mai pensato potesse accadere, ma vi racconterò meglio dopo. Prima passiamo a ciò che mi è successo nelle ultime due settimane. Come saprete, mi è arrivato il Ryzen 9 5950X dagli amici di Metal PC Custom per farci una recensione. E sapete cosa è successo? Ho installato il processore. Dopo averlo installato, il BIOS, dove appunto dovevo cambiare la frequenza delle RAM, ha cominciato a flicherare. Quindi mi sono detto, sarà sicuramente un aggiornamento della scheda video. Ah, facciamo questo aggiornamento della scheda video. Il driver video Nvidia 466.47, che sembra aver creato una marea di problemi a tantissime persone. A quel punto mi sono detto, vabbè, nulla di strano, nulla di complicato. Si passa a un driver video precedente, si pulisce il vecchio con DD Uninstaller, un programma fantastico, e il tutto dovrebbe risolversi, giusto? Non è andata per nulla così, sappiatelo. Ho cominciato ad avere schermi blu occasionali, difficoltà nel riconoscere gli SSD, non si trovava più il bootloader di Windows, e quindi mi sono detto, ma non è che forse il mio SSD mi sta abbandonando, il mio Samsung 980 Pro ho comprato qualche mese fa mi sta abbandonando. Ho deciso quindi di fare un'installazione pulita su un altro SSD del sistema operativo, e i problemi sono, beh, tornati più forti di prima. Fino a che un giorno non mi è venuta la malsana idea di andare a vedere una cosa sul forum ufficiale di Nvidia, e c'era un utente con i miei stessi problemi, e ha detto, io ho provato a cambiare un pochettino l'ordine dei banchi di RAM, e i più attenti di voi avranno già visto che qui ci sono tre banchi di RAM, non quattro. Il quarto è qui. E quindi cosa ho fatto? Ho provato a testare ogni singolo banco di RAM in ogni singolo slot della scheda madre, e una volta messa qualsiasi banco di RAM nello slot 1, quindi quello più vicino alla CPU, il sistema ributtava 4-5 volte. Cosa succede? Cosa significa questo? Significa che c'è un problema con gli slot delle RAM della mia scheda madre. Adesso, prima che si cominci a vociferare male, raga, questa è una scheda madre top di gamma, stiamo parlando di una X570 di MSI, la Prestige Creation, una scheda madre fantastica per quello che deve fare, una scheda madre per i content creator, con una marea di porte USB, ottime fasi di alimentazione, connettività assurde, però molte volte si capita in quella casistica che colpisce circa una persona su 50.000, 70.000, e cioè purtroppo delle componenti che sono buone, ma messe sotto sforzo in questo caso il cambio di un processore, perché i Ryzen 5000, come i Ryzen 3000, hanno il controller delle RAM direttamente sul chip e non sulla scheda madre, evidentemente, andando a cambiare da un processore a 16 core della serie 3000 a un processore a 16 core della serie 5000, c'è stato un overvolting di qualcosa, non ne ho idea di cosa sia successo, praticamente, si sarà bruciata qualche traccia all'interno dello slot della RAM. Ecco, è una cosa sfortunata, sì, capita spesso, sì, su schede madri MSI, dipende, sulle vecchie capitava più spesso, sulle nuove capita di meno, ma comunque capita. Ad ogni modo, io non so come ti darò questo video, sappiatelo, ma sappiate che ho già ordinato una X570 Asus Crosair Hero 8, perché voglio stare tranquillo, ho detto, mi sono visto 10.000 recensioni di questa scheda madre, e vi lascio in descrizione un canale tutto italiano dal quale andare a trarre le vostre conoscenze riguardo alle schede madri, perché, raga, l'ho scoperto da poco, ma merita tanto. Io vi consiglierei di andare a dargli un'occhiata. Ma vi ricordo che se voi avete voglia di cambiare i vostri componenti, vi lascio allo sponsor di oggi, cioè gli amici di Metal PC Custom. Il tutto dura 45 secondi e se volete poter skipparlo, ma io come sempre vi consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione. E ricordatevi dire che vi manda il punto di G. Bene, abbiamo detto, sto cambiando la scheda madre. Cosa succederà? Questa scheda madre è stata acquistata dagli amici di Tripodoshop a ottobre, se non erro. Quindi credo sia ancora in... Per forza è ancora in garanzia. La manderò a... Contatterò comunque il negozio e vedrò un pochettino cosa si può fare. Adesso passiamo alla parte succosa del video. E cioè, la RTX 3080 Ti Supreme X. Sono stato contattato sabato, quindi ieri, da un partner MSI Gold Italia e mi è stato detto, guarda, vogliamo mandarti una RTX 3080 Ti per una recensione. Sono contentissimo, davvero contentissimo. Non mi aspettavo che potesse succedere una cosa del genere, per cui grazie innanzitutto. secondo, adesso sapete perché sia sul canale Viola, sia su YouTube, in questa settimana perché avevo intenzione di registrare altri video, purtroppo non mi è stato possibile. Perché, raga, la scheda madre fa le pizze. Ma nei prossimi giorni il tutto sarà risolto e sarà, beh, tutto in grande spolvero. Vedremo cose davvero, davvero belle. Per cui, nulla, volevo solo aggiornarvi un pochettino sulla situazione. Grazie mille per aver seguito il video. Ci tengo, oltretutto, a ringraziare il signor Saddi di Saddi Tech perché, praticamente, ho rotto le scatole a lui dicendo lo so che c'hai le giornate piene, però ho un problema. Cioè, ho fatto questo, 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 questo e questo è successo questo, abbiamo provato a risolvere però, purtroppo, c'è un problema decisamente hardware. Quindi, grazie mille, signor Saddister. Sempre in the heart, come i veri OG, yeah, baby. Detto ciò, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. E, beh, nei prossimi giorni vedremo cose davvero, davvero belle. Per cui, ci vediamo in un prossimo video. Sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G e con la sua nuova maglia gialla. Ciao, ciao, belli. Ciao, ciao, belli. Ciao, ciao. Grazie a tutti